Rosa Chemical, Mara Venier arrabbiata, perché non hai me invece di Fedez? Io avrei ricambiato. Rosa Chemical ha scatenato la polemica baciando Fedez durante l'esibizione del suo brano Made in Italy al Festival di Sanremo. Oggi, domenica 12 febbraio, il cantante è stato ospite a domenica in da Mara Venier che gli ha detto, ma perché non hai baciato me invece di Fedez? Io avrei ricambiato volentieri. Alla fine della sua performance Rosa Chemical ha baciato la conduttrice. Durante la serata finale del Festival di Sanremo Rosa Chemical ha corso in platea dove ha preso la mano di Fedez trascinandolo sul palco. Dopo aver finito di cantare i due cantanti si sono baciati. A domenica il Rosa Chemical ha detto, non capisco cosa ci sia di male in un bacio? Io e Fedez siamo amici quindi non so perché tutto questo abbia scatenato le polemiche. Mara Venier non è però, stata l'unica ad essersi arrabbiata, Chiara Ferragni infatti. È parsa molto infastidita dopo il siparietto tra il cantante in gara e il marito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.